Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegge Lo dentro di Gesù e Maria e una santa serata a tutti come ho annunciato già da Oscar a Dio piacendo adesso questa sera cercheremo di completare i bellissimi messaggi della Regione dell'Amore l'abbiamo già visti quasi tutti e anche però vedere una seconda tranche di messaggi di Gesù relativamente alla situazione quindi al tema della Chiesa che ci dovranno a concludere e a focalizzare un pochino questo aspetto ripeto che sia della tranche dei messaggi attribuiti a Maria Santissima che quelli di Gesù sono molti per cui sarebbe impossibile vederli tutti io come al solito cercavo di fare una cernita di quelli significativi possibilmente abbastanza comprensivi essendo questa è l'apparizione della Regione dell'Amore inizierei con gli ultimi messaggi della Regione dell'Amore e proviamo la seconda tranche dei messaggi di Gesù allora quelli della Madonna sono sempre brevi e incisivi mentre quelli di Gesù abbiamo visto che sono un pochino più articolati 2 febbraio 1999 festa che è un giorno della purificazione di Maria adesso della presentazione di Gesù al Tempio ma chiaramente si commemora anche questo grande gesto di umiltà di Maria Santissima è anche giornata della vita consacrata vedete qui Maria Santissima fa questa analogia con i miei consacrati con voi io riunirò la mia Chiesa rinnoverò ogni cuore affinché regni l'amore nel mondo ora è evidente abbiamo già visto qualcosa dei messaggi di Schio che l'intenzione e la volontà della Madonna è di formare una sorta di virgolette di esercito ovviamente esercito celeste quindi non è gente che odia il prossimo che fa le risse e le guerre ma di esercito agguerrito di armi soprannaturali per realizzare questo fine riunire la mia Chiesa quindi la Chiesa di Maria è la Chiesa Cattolica non è un'altra Chiesa non è che ci sono a me queste espressioni adesso non vorrei la Chiesa di Tizio la Chiesa di Caio la Chiesa di Sempronio la parrocchia di Tizio la diocesi di Tizio c'è la Chiesa Cattolica poi i personalismi in questo contano ben poco per quanto mi riguarda basta rimanere ancorati a ciò che la Chiesa crede insegna celebra e vive se si fa questo che ci sia Don Riccardo Don Francesco Don Nicola Don Filiberto diventa del tutto secondario diventano soltanto un problema come dire veramente umano così che ci sia Papa X Papa Y Papa Z Papa Gamma Papa Epsilon Vescovo X Vescovo Caio Vescovo Sempronio cose del tutto secondari io penso che sarebbe da rimettersi alla scuola di San Giovanni Battista e imparare un po' tutti egli deve crescere e io diminuire oppure ricordare quelle belle parole di nostro Signore che siamo tutti servi inutili come diceva la mia santa mamma quando io portavo qualche bel vuoto a scuola tutto contento dico adesso mamma sarà contenta mia mamma mi diceva sempre guarda che hai fatto mezza parte dell'obbligo tu e manco tutto perché il Signore ha trattato l'intelligenza sarebbe da stupirsi se non porti i devoli buoni dalla scuola quindi con prete faccia il predio con prete faccia un vescovo con papa faccia il papa mi sembra la cosa più normale più ovvia di questo mondo guardate che la chiesa funzionerebbe veramente veramente se si potesse dire don x y e z uno vale l'altro vesco x y o z uno vale l'altro papa x y o z uno vale l'altro perché siamo discepoli dello stesso Signore siamo custodiati della stessa fede celebriamo gli stessi sacramenti si spera cerchiamo di sforzarci di praticare gli stessi comandamenti io sinceramente me questa sapete confessione no? si può dire che bella missa che hai celebrato uno dovrebbe essere contento noi non sono contento per niente perché la missa è sempre bella e dire questo vuol dire che forse ti costa che magari qualcuno la celebra in maniera non lo so non molto devota non so come dire e questo a me mi la trista molto ci si creda non ci si creda questo è quello quindi radunare la mia chiesa la chiesa di Maria è la chiesa di Cristo è la chiesa cattolica basta rinnoverò ogni cuore affinché regni l'amore nel mondo i comandamenti di nostro Signore Gesù Cristo non è che sono tanto difficili cioè il primo amerai il Signore di Tu con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze il secondo amerai il prossimo Tu come te stesso fa questo e vivrai finita la discussione quindi vabbè gareggiare nell'essere più generosi nell'amare il Signore come dice San Paolo gareggiare nell'amarsi e nello stimarsi a vicenda senza invidie senza gelosie senza rivalità peccati a quanto pare a volte diffusi proprio là dove non dovrebbero essere diffusi comunque andiamo oltre ecco sempre sullo stesso tenore no? 26 maggio 2000 una mobilità una mobilitazione divina sta avvenendo nei miei figli per salvare attenzione oh la chiesa di Gesù oh se vogliamo proprio metterci un complemento di specificazione ce ne mettiamo uno solo la chiesa di Gesù la Madonna dice la mia chiesa è chiaro quello che è di Gesù è sua la chiesa è di Gesù è la sua l'ha istituita lui cioè è in maniera perfettissima chi combina i guai siamo noi salvare la chiesa di Gesù è un'espressione significativa ripeto questa è un'apparizione mariana quindi categoria rivelazioni private peraltro non ancora ufficialmente riconosciute quindi massima libertà di coscienza nel credere o non credere sapete oggi ho cominciato la revisione lo annuncio del mio libro che un tempo si chiamava le apparizioni di Maria adesso che lo do alle ristampe gli ho cambiato il nome quindi lo pubblicherò sotto un altro nome che si chiamerà la condottiera celeste delle anni sottotitolo le apparizioni mariane riconosciute degli ultimi secoli quindi lì tratto soltanto delle apparizioni riconosciute così non ci sono questioni ok però anche in un'apparizione riconosciuta lo dico nella prefazione del libro quando un'apparizione riconosciuta nessuno può dire lì non ha parlato la Madonna questo non esiste d'accordo però la chiesa stessa non obbliga il fedele come dire a uniformarsi quindi a ottemperare quello di per esempio una libera scelta tu non puoi dire che quella apparizione è falsa che quelle cose sono corbellerie ma ciò a cui noi siamo obbligati a credere dalla legge della chiesa ovviamente sotto penna di peccato grave è la fede divina e cattolica certo se qui parla la Madonna quindi dobbiamo metterci il sé e io già ci credevo prima schio dopo queste puntate di cui ringrazio Oscar ci credo ancora di più avendo dovuto approfondire anche il contenuto dei messaggi che è molto significativo però l'espressione salvare la chiesa di Gesù è un'espressione forte perché si salva chi sta in pericolo vuol dire che già nel 2000 la chiesa di Gesù rischiava di diventare qualche altra cosa o no cioè poi io non voglio non voglio fare questioni insomma uno può dire va bene queste sono tutte stupidaggini qui non parla la Madonna parla il diavolo liberissimi di pensare come uno lo vuole però l'espressione della lingua italiana salvare la chiesa di Gesù abbiamo sentito come si parlava dell'Eucaristia cosa ha detto Maria Santissima io quando mi esprimo riguardo l'Eucaristia lo riconosco uscirà anche un video adesso nei prossimi giorni presto posso abbandonarmi qualche volta in espressioni forse troppo accurate dove magari c'è un'enfatizzazione o anche un'ipertrofia di certe cose ma ciò che mi muove Gesù Cristo lo sa è proprio l'amore a Gesù l'Eucaristia e vedere purtroppo perché io ho la grazia e la disgrazia su certi aspetti di fare il parroco quindi certe cose me levo davanti agli occhi e fa male vedere certe cose non ci si può mettere l'Eucaristia sotto i piedi e quindi per controbilanciare un pochino questo stato di desolazione a volte eucaristica uno si può prendere magari gli scappano delle espressioni un po' eperboliche che poi chiaramente i soliti strumentalizzano e li usano poi per mandarti boomerang di ritorno comunque c'è un problema salvare la chiesa di Gesù poi 15 agosto 2000 come l'Eucaristia io sono il segno lasciatovi da Gesù per l'unità della chiesa e dei figli di Dio attenzione che cosa dice adesso questi segni ora sono diventati a causa dei peccati di tanti miei figli segno di divisione cioè dentro la chiesa cattolica cioè sapete no San Giovanni Bosco le tre cose bianche quelle su cui siamo tutti uniti non si discute l'Eucaristia la Madonna e il Papa questi sono diventati segni adesso di divisione purtroppo fazioni dentro la chiesa che si fronteggiano su questo qui purtroppo non c'è bisogno di commentare basta basta aprire gli occhi anche in campo mariano io sono a tesi dottorale insomma in dogmatica con specializzazione in ecclesiologia ma la mia tesi dottorale si chiama anche tipologia di ecclesiologia il procedimento tipologico come chiave di interpretazione del mistero della chiesa l'ultimo capitolo fa vedere come la Madonna sia figura e immagine e modello della chiesa il decimo ma lì chiaramente per introdurre la questione lì ci sono due fronti adesso sul piano mario logico un fronte minimalista quindi uno che tende ad abbassare la Madonna quindi a farne una di noi detto in parole povere e poi il fronte tradizionale che adesso è dispregiativamente chiamato la mariologia dei privilegi che invece dice no calma certo la Madonna è una creatura non è una dea ma non è una di noi noi non la stiamo scherzando sicuramente la madre di Dio è immacolata è la vergine perpetua ok pensiamo a tutte quante le controversie che crea la tematica della corredenzione su cui ci sono polemiche a Vespai proprio per quanto mi riguarda è facilissimo comprendere questo discorso proprio di una facilità estrema ma ancora 25 dicembre 2000 io sono indissolubilmente legata alla Chiesa e in essa operante quindi quasi a dire se qualcuno vuole marginalizzare un po' o buttare fuori a volte anche per qualche a mio avviso malinteso circa pur buone intenzioni ecumeniche perché guardate che in ogni cosa vale questo cioè il dialogo anche ecumenico non si fa mai questo Giovanni Polo II per la verità l'ho sempre sottolineato non si fa mai a discapito della verità cioè nella che post che siccome dovevo parti contento tu non ci credi alla madonna allora siccome so che non ci credi io ne parlo un po' poco così non ti urto ma questo non è un buon modo perché bisogna trovare altre modalità perché la verità non è vendita non è neanche sottoponibile a sconti o a compromessi poi se si vogliono fare altre scelte questo lo dico a tutti i livelli questo vale a tutti i livelli è chiaro che delle volte in nome della verità bisogna soffrire un po' perché la verità a volte può essere un po' non accettata un po' scomoda ma personale convinzione se si scende a compromessi e se si fanno passi indietro sul tema della verità si va solo a come dire alimentare l'azione delle forze avverse a Dio sui disegni e sui voleri che sono come ben noti o come ben noto ben lontani dalla verità e chiamati ed epitetati da Gesù come padre signore e principe della menzone poi 2 febbraio 2002 ancora 2 febbraio figli miei sia robusta la vostra fede perché rimarrà la chiesa quando voi lascerete questa terra bellissimo la nostra fede la nostra fede è un bene oggettivo fatto alla chiesa e se moriamo in qualche modo rimarrà la chiesa quando voi lascerete questa terra ancora oggi più di sempre io grido forte per farmi ascoltare da tutti gli uomini espressione grido forte accogliete voi figli miei questo grido perché con quanti lo accoglieranno vedete Gesù ricostruirà la sua chiesa per salvare ogni anima qui sembra ricordiamo la fase che disse il crocevisto a San Francesco no Francesco va e riparo la mia casa perché come vedi va in rovina qui si parla di ricostruire la sua chiesa vogliamo anche qui fare l'analisi sintattica della lingua italiana chi mi conosce sa che io sono mia nonna era di Amatrice al terremoto di Amatrice è morto mio cugino carnale che stava dentro la casa natale di mia nonna di fronte a Campanile mia sorella col marito stavano dentro la casa nostra costruita grazie a Dio in epoche più recenti con autotermano di cemento armato se no erano morti pure loro si ricostruisce qualche cosa che è andato distrutto dopo il terremoto comincia una operazione di ricostruzione perché se uno va ad essere ad Amatrice io non ci vado più non ci vado è stata una volta sola Amatrice è rasa al suolo non c'è più il paese storico dopo io per tanti anni negli anni passati ci ho passato gran parte dell'estate cioè l'impatto psicologico con una cosa di questo genere è veramente allucinante perché tu ricordi tutto quello che c'era ma adesso non c'è più ci potrà riessere ma quanto ci vorrà tempo è un'operazione di ricostruzione quindi che significa accogliete voi figli miei questo grido perché con quanti lo accoglieranno Gesù di ricostruire la sua chiesa per salvare ogni anima per salvare ogni anima perché se la chiesa non si ricostruisce attenzione qui non è un problema di fare qualche cosa di pittoresco di divertente no no se la chiesa non si ricostruisce le anime rischiano rischiano di non raggiungere la salvezza non è che rischiano poco rischiano tanto rischiano e con chi ricostruisce con quanti accoglieranno questo mio grido ecco perché non vedo l'ora di pubblicare sto libro adesso ci lavorerò come un pazzo perché spero dentro il mese del rosario di darlo alle stampe tra l'altro ci metterò anche delle apparizioni per esempio c'è la Madonna del Buon Successo che incredibile dice delle cose che sembrano dette proprio per questi tempi proprio precisi che stiamo a dire adesso e è datata la Madonna del Buon Successo è molto più recente rispetto a molto più antica rispetto a schifo l'ultimo lo riservo per concludere il discorso di questa sera perché è troppo bello ed è anche di grande gioia e speranza quindi adesso facciamo un jump spostiamoci verso il figlio e il signore di Maria il nostro che è Gesù cominciando a leggere qualcuno dei suoi messaggi o come sempre quelli di Gesù sono più articolati quindi sono molto più chiari quindi sono quasi citazioni perché commenti proprio marginali perché sono di una chiarezza veramente estrema partiamo da 4 maggio 1991 siate esempio di verità anche voi miei cari con grande libertà non sarà duratura la conversione imposta vedete la conversione imposta il rispetto di Dio per la nostra libertà tra una verità che resta e un'anima che si può perdere io preferisco l'anima ben altre vie hanno percorso e percorrono tuttora molti miei consacrati che ho mandato a rappresentarmi sentite croce grazia e preghiera sono state sostituite con false libertà ed agodimenti sensuali al mio popolo parlano della vuota coscienza quindi una coscienza vuota è una coscienza non formata perché la coscienza va seguita perché sia formata però al mio popolo parlano della vuota coscienza dei falsi profeti e delle opere della loro superbia qui sta parlando di miei consacrati quindi domanda ipotesi eh ci sarà una corrispondenza tra miei consacrati e falsi profeti non tutti i suoi consacrati molti miei consacrati sono questi punto interrogativo eh tutto questo è l'anticristo vivente il quale a me si oppone si oppone alla mia chiesa e al suo capo visibile in Roma quindi l'opera dell'anticristo è la distruzione della chiesa e la distruzione del capo visibile che è in Roma miei discepoli la mia chiesa sentite la religione senza soprannaturale senza miracoli senza preghiera non è la mia chiesa questo è razionalismo io con le orecchie mie non faccio nomi e cognomi ho sentito teologi esperti di francescanesimo che sono delle autorità nel campo di teologia umanizzare tutti quanti i segni soprannaturali fatti da San Francesco per esempio San Francesco che predica agli uccelli che parla al lupo di gubbio vi risparmio le cose che ho sentito commentare cioè la frase diciamo così cult ovvia è mica crederete a queste cose queste sono leggende se vogliamo dirle un altro in tema madiano se voi oggi visitate la santa casa di Loreto e vi capita qualche guida vi dirà chiaramente ma mica crederete che la santa casa di Loreto ce l'hanno portata gli angeli sulle spalle del cielo nonostante tutte quante le evidenze scientifiche ci stanno perché ci sono le evidenze scientifiche di questo che cos'è questo qui chiesa religione senza sopravnaturale senza miracoli perché gli angeli non possono prendersi la casa di Nazareth e portarla a Loreto chi l'ha detto questo qui lo dici tu lo dici vedete la chiesa umana qual è la non chiesa di Cristo è la chiesa umana una chiesa umana così fatta è la negazione del divino perciò attenzione è priva di grazia di angeli e di santi e la mia casa diventa tempio di sacrilegi io le prediche che ci ho fatto su questo e tanto continuerò a farle non è che mi metto paura tempio di sacrilegi perché perché se è tutto umana che cosa diventa la chiesa edificio di culto ah no ma la chiesa è il luogo della comunità quindi finita la messa certamente possiamo metterci a chiacchierare in chiesa perché dobbiamo fare comunità esci dalla chiesa e fai tutte le comunità che vuoi ma la chiesa è la casa di dio in chiesa dicevo il buon padre Pio si parla con dio o di dio non solo padre Pio lo dicevano tutti lo dicevano da san benedetto in poi non è il mercato ma quante chiese e mercato si vedono adesso in giro tempio di sacrilegi in verità vi dico che non mi servono anime sapienti piene di mondo e queste anime piene di mondo purtroppo adesso si trovano dove non dovrebbero trovarsi spesso e volentieri ma bensì anime che per la loro semplicità sono in cammino verso di me piene di fede non piene di mondo il tormento dell'incertezza diventa sempre più grande nella mia unica e vera chiesa l'incertezza l'incertezza è figlia della perdita di fede a noi si rivolge Gesù mantenete voi la santa sicurezza e la invincibile volontà di offrire pregare e operare per la vittoria di questa chiesa ecco la strada maestra offrire cose sacrifici le penitenze bisogna soffrire pregare ma anche operare ciascuno nel proprio posto ciascuno come può con l'esempio e con la parola diceva sempre il buon San Francesco l'eletta creatura del padre celeste e la mia santissima vergine vedete vincerà ogni battaglia siate a lei uniti la celeste condottiera delle anime poi 22 giugno 1991 voi che mi seguite non pensate mai di trascorrere una vita tranquilla perché ci sono io con voi la vostra fede non mi sottrae alla condizione umana né vi garantisce l'immunità da qualsiasi prova anzi vi dico da qui verrà il più esigente impegno cristiano nel tempo della prova siamo nel 1991 sapete quanta gente anche a noi poveri viene a dire ah ma io ho trovato la fede pensavo che trovando la fede si campasse meglio invece qua si campa meglio sovventate le croci dico ti stupisci ma noi subiamo uno che ci ha detto che vuole venire dietro di merini che se stesso prende la sua croce ogni giorno e mi segua dove sta scritto nel Vangelo il cristianesimo senza croce o senza prove mi hai sentito pita mia e Gesù aggiunge qui voi siete uomini inchiodati alla mia croce per questo la vostra sofferenza è preziosa la croce ci visita in tantissimi modi ecco e dobbiamo accoglierle e offrire maldicenze maldicenze e calumni lo dicevo stamattina ai miei fedeli quando arrivano fanno soffrire e si offrono al Signore fino a quando non fosse necessario insomma dover dire qualche cosa per tutelare un minimo la buona famma o il proprio onore infamato e infangato questo vale per tutti ovviamente oggi oggi ove non è più la croce della redenzione la salvezza ma si va cercando la salvezza nelle passioni del mondo e così anche la mia chiesa sentite si tramuta in meretrice in Babilonia immagine della grande meretrice del libro dell'Apocalisse è terribile questa cosa qui la mia chiesa si tramuta in meretrice in Babilonia non sono capace di commentare queste cose sono affermazioni gravi miei discepoli dure sono le mie parole sullo scandalo lo dice Gesù io avverto che non si tratta di semplici compromessi ai confini tra lecito e illecito o di neutralità davanti al male no no noi non possiamo essere neutrali davanti al male né scendere a compromessi ma di rimedi decisivi radicali oggi più che mai sono in gioco ancora le sorti di un innumerevole stuolo di anime e voi con il mio grido renderete consapevoli di questa terribile possibilità di essere sterminate e dannate qui perdonatemi io ne so qualcosa di che significa sta roba qui perché tu prova a parlare di questa roba qui adesso in giro rischio di dannazione o cose di questo genere ah tu sei il diavolista ah tu pensi che il diavolo è più grande di Gesù Cristo ah tu terrorizzi la gente metti paura alle persone tutte quante queste cose evidentemente sapete che se la Chiesa deve approvare o riconoscere un'apparizione se viene riconosciuta capite dopo non c'è più dubbio che queste cose le ha dette il nostro Signore e vedete qua cioè come il nostro Signore Maria Santissima non è che si fanno problemi dice ah ma se dico questa cosa con l'are che c'è adesso in giro non approveranno mai l'apparizione magari se noi fossimo folli perché sarebbe folli umanamente parlando dice ma Signore mio è meglio che non dici meretrice perché se dici meretrice poi chi legge questi messaggi che pensa no l'ho detto meretrice sempre supposto che sia Gesù eh io ci credo che lo è 24 agosto 1991 ancora ritorno al tema dell'Anticristo nell'ora della mia grazia straordinaria ho già parlato molte volte dell'Anticristo io ho visto penso di poterlo dire una conferenza tenuta da Don Guglielmo Fichera che io conosco da 15 anni proprio quest'estate a Schio durante il festival su questo tema sul tema dell'Apocalisse dell'Anticristo lui ha fatto degli studi megagalattici insomma disponibili online chi vuole può andarlo a vedere sono interessanti gli spunti a mio avviso che propone questo confratello anche se anche lì abbastanza forti e significativi ora siate più attenti a quanto vi dico superbi ed eretici ancora parlano continuamente di una religione senza soprannaturalità senza miracoli e senza preghiera e si parlano dell'uomo e non più di Dio avete visto la diagnosi che ha fatto Gesù sui problemi della Chiesa superbi ed eretici religione senza soprannaturalità senza miracoli e senza preghiera dimenticando il perdono e si capovolgono l'ordine dimenticando il perdono e negano l'amore di Dio con audace ed offensiva dismisura chiedo scusa Don Leonardo il messaggio è questo scusi 24 agosto 1991 grazie io tranquillo che ho mandato l'elenco dimenticato di nominarlo anche evidentemente per gli ascoltatori che possano andarlo a verificare chi crederà a me troverà il padre ma chi indebolisce la mia Chiesa attenzione spara un'altra Gesù io dico meno male che le dice Gesù penso se le dicessi io queste cose che cosa sarebbe successo a quest'ora insomma speriamo che sia chiaro che sto leggendo i messaggi di Gesù perché se pensano che le dico io non so che cosa si scatena contro sentite che chi crederà a me troverà il padre ma chi indebolisce la mia Chiesa unica e vera pecca contro lo Spirito Santo pecca contro lo Spirito Santo a chi si riferisce è chiaro che c'è il contesto no? a quelli che superbi ed eretici parlano di una religione senza soprannatorialità senza miracoli e senza preghiera hanno costruito la Chiesa umana la Chiesa dell'uomo ad immagine e somiglianza dell'uomo non di Dio questo è un peccato contro lo Spirito Santo dice Gesù si accomodino pure c'è grande l'apostorato del mio vicario in Roma siamo nel 24 agosto del 91 c'era Giovanni Paolo II ma spesso sguarniti sono i suoi grandi sforzi per rinnovare e ampliare la mia Chiesa qui a mio avviso questa opinione mia personale Gesù fa riferimento ad un aspetto ben preciso del pontificato di Giovanni Paolo II Giovanni Paolo II ha avuto un pontificato diciamo così un po' complesso da un punto di vista pastorale diciamo così si è inserito diciamo nella linea non mi piacciono tanto questi termini però progressista quindi che cercava di portare la Chiesa verso una direzione ma da un punto di vista dottrinale no no perché fino a quando c'è stato Giovanni Paolo II alcune questioni non erano in discussione e si è io me lo ricordo al 91 c'era 20 anni ero tra l'altro era appena tutto gasato tornato da poco no forse stavo ancora a Cesto Cova il 24 agosto del 91 che siamo andati no era appena tornato era il 15 agosto stavo tutto gasato Paolo II dal punto di vista dottrinale ha tenuto alla grande sottospinte forti la sana dottrina e la tradizione della Chiesa lasciato su questo completamente da solo quindi 21 settembre 1991 questo è un altro messaggio molto molto forte spesse volte strutture schemi e regole imposte da ministri della mia Chiesa arrestano l'avvicinarsi a me di tante anime che io sto chiamando schemi regole e strutture anche queste sono creazioni umane per i miei apostoli le mie parole erano talvolta incomprensibili guardate qui eh oggi si preferisce ignorarle perché perché non feriscano ah qual è la prima cosa ah tu non devi stare attento che non devi offendere nessuno non devi ferire questo non devi ferire quell'altro non devi urtare la sensibilità ma scusate ma il nostro signore Gesù Cristo nel Vangelo ma mica ha fatto questo ha fatto questo Gesù non guarda in faccia a nessuno tant'è vero che glielo dicono i farisei sappiamo che tu non guardi in faccia a nessuno dici un po' lo prendiamo il tributo a Cesare quando prima della passione dopo aver tentato per anni di far ragionare sul sabato su altre questioni i farisei era cantare l'esanta ragione sei volcri imbiancati serpenti razza di pipere come potete scampare dall'ira che vi sovrasta oppure dice che vi siete scandalizzati che è cascata la torre di Siloe ah guardate che se non vi convertite venirete tutti allo stesso modo che Gesù forse mancava la carità mancava la carità Gesù perché feriva il prossimo lo dice lui eh illusione di uomini che si credono privilegiati essi sono solo trascinati dalla spirale dell'orgoglio la loro mira essere primi essere più grandi per poter dominare ecco che cosa ci sta sotto eh tu vuoi essere ti piace il potere vuoi voler dominare e per questo strumentalizzi quindi ti servi della chiesa ai tuoi figli anziché servire la chiesa con i mezzi soprannaturali e continuando a stare nel solco della sana dottrina e tradizione e in fin dei conti della parola stessa di Gesù annunciare la verità così com'è senza rispetto umano cioè il danno supremo non è che qualcuno si senta ferito d'accordo nella nella sacra scrittura si è scritto che la parola di Dio è una spada a due tagli lettera agli ebrei che penetra fino al punto di divisione dell'anima dallo spirito con il soffio della sua bocca ucciderà l'empio profezia di Isaia sul messia libro dell'apocalisse dal colui che cavalcava il cavallo bianco dalla bocca gli usciva una spada affilata san paolo che è stato il più grande predicatore di tutti i tempi è rappresentato con la spada ma perché è stato rappresentato con la spada perché lui stesso scrive nelle sue lettere la spada dello spirito è la parola di Dio che penetra fino al punto di divisione la predicazione ferisce a queste parole prima predica di san pietro si sentirono trafiggere il cuore atti degli apostoli e dissero che dobbiamo fare pentitevi e fatevi battezzare altro che non ferire ma che so queste cose da dove escono queste cose quando mai si sono viste non ferire non dobbiamo dare la pastilla a nessuno ma chi l'ha detto questo qui scusate se mi accendo un po' ma questa non è la chiesa di Cristo questa è la chiesa degli uomini 26 ottobre 1991 miei cari ancora vi invito a lavorare per la mia unica vera chiesa e adesso attenzione che qui parla a tutti e queste cose io ve le assicuro perché sono anni che ci campo chi le fa le paga e le paga lacrime di sangue perdonatemi se sono un po' ma io su questo non prendo lezioni miei cari ancora vi invito a lavorare per la mia unica vera chiesa a testimoniare la verità prendendo giuste attenzione passive o attive posizioni contro innovazioni che falsificano apertamente la fede dell'unica e vera chiesa e la demoliscono queste posizioni vanno prese quando c'è di mezzo la verità si deve parlare non si fanno arringhe non si fanno nomi e cognomi io sono contrario non si attaccano le singole persone ma la verità si dice se qualcuno si sente colpito perché li senti colpito e sto dicendo la verità se ti senti colpito devo pensare male gravi prove incombono sulla mia chiesa ho fortificato il mio vicario in Roma armandolo solitamente contro coloro sacerdoti e bescovi che si accreditano nel loro ambito un potere che spetta ad un altro successore di Pietro una delle cose che scrisse San Giovanni Paolo II non lo sa quasi nessuno è per esempio un documento che parlava dei limiti del potere delle conferenze episcopali che stavano diventando delle macrostrutture io l'ho studiato io ero poco dopo qualche anno dopo all'università pontificia questi volevano che praticamente le conferenze episcopali diventassero degli organi talmente grandi che andavano quasi in qualche modo e io specifico no le conferenze episcopali sono secondo il concilio un organo di espressione dell'affetto collegiale tra i vescovi di discussione ma nessuno dei loro non hanno le conferenze episcopali potestà magisteriale cioè le dichiarazioni delle conferenze episcopali non producono magistero ma questo e nessuno si scandalizzi neanche le affermazioni di un vescovo producono nuovo magistero in senso stretto perché le affermazioni del vescovo sono confermative del magistero esistente perché chi ha potere di creare nuovo magistero è il papa o il concilio come è ecumenico e basta io capisco questa cosa qui perché ho studiato e perché mi ricordo che succedeva in quegli anni si accreditano nel loro ambito un potere che spetta soltanto al successore di Piero 7 dicembre 1991 ora vi dico che la prova che si è abbattuta sulla mia ancora unica e vera chiesa la mia quella di Gesù non quella di Tizio Caio Sempronio va crescendo di giorno in giorni e in molti luoghi si è sviluppata in una interna persecuzione e chi è che viene persecutato secondo voi? Chi è che viene persecutato? Persecuzione dentro la chiesa una volta i persecutori venivano da fuori c'è sta il martirologio che chi lo legge ogni giorno si fa una cultura ma si è mai vista la persecuzione dentro la chiesa? E sapete chi è che viene persecutato? Chi cerca in qualche modo di rimanere unito alla chiesa di Gesù e in qualche modo di tenerla viva di farla sopravvivere di opporsi a questo processo di di desolazione non è mia la parola proseguo la lettura lo scandalo della desolazione è entrato in questa mia amata chiesa la desolazione è vuoto espresso come? Sentite sempre maggior numero di sacerdoti dubitano della mia vera presenza nei toni sacrificati del pane e del vino non ci credono non ci credono alla presenza ecco perché trattano Gesù in un certo modo perché dimmi quello che fai e ti dirò chi sei che vale anche per queste cose se tu quando consagri piti l'ostia e manco la guardi la tieni con una mano sola cosa che non si fa non qualifichiamo non si fa l'ostia si tiene con due mani con le mani giunte quando si alza perché stai alzando Gesù Cristo e poi la fiondi sulla patena come se fosse un frisbee beh sarebbe meglio pensare che non ci credi perché se ci credi lo tratti in quel modo chi ascolti qualifichi il gesto perché è meglio che non lo faccio io che non è meglio di no e quindi ingannando il mio popolo ingannano se stessi non abbandonate di voi alla tristezza e all'amarezza quindi si vedono queste cose non rimanete tristi state saldi nella fede che vivono nel possesso della verità amatevi e riempirete il mio sacratissimo amatemi e riempirete il mio sacratissimo cuore di consolazione ok questo è veramente più che mai importante amare Gesù 14 dicembre 1991 altro richiamo molto importante è il tempo in cui innumerevoli cristiani membri della mia unica e vera chiesa dimenticano la loro mamma del cielo anzi la rifiutano e perciò diventano dei rinnegati sentite ancora ma vedete che ricorre come un mantra la mia unica e vera chiesa la mia unica e vera chiesa che cosa significa che non ce n'è un'altra è che c'è il pericolo di farne una falsa scusate unica e vera il contrario di unico è plurimo no toplice il contrario di vero è falso se l'italiano ha un senso sempre così membri della mia unica e vera chiesa dimenticano la loro mamma del cielo anzi la rifiutano e che cosa dice e perciò diventano dei rinnegati perché non parteciperà mai a questa mia chiesa colui che è colpevolmente infedele alla madre sua facciano pure i i rinnegatori di di Maria convinti di rimanere dentro la chiesa questo fra questi rinnegati si trovano sempre in maggior numero consacrati i servi del Santissimo essi si rendono colpevoli del peccato di Giuda che col suo bacio non mi dimostrò amore ma mi procurò il più grande dei dolori miei cari sarà un tempo delle tenebre e nel contempo un tempo della luce perché perché mentre la semente dei malvagi dei senza Dio finirà col marcire nel frattempo però c'è tossica perché non è che non c'è tossica nel frattempo c'è tossica anche se finirà col marcire la semente dei credenti e speriamo di essere noi da questa parte fiorirà in una chiesa più pura e più bella splenderanno nel buio quanti rimangono nel mio amore attenzione e seguendo le orme dei santi non vacilleranno nella tempesta non saranno travolti nella prova questo è tempo di virtù eroico i santi vanno ancora seguiti in verità vi dico i tempi sono già con voi benedico 14 dicembre del 91 siamo a 33 anni fa quasi infine di Gesù e poi chiudiamo con l'ultimo di Maria 22 marzo 1992 ancora vi dico non lasciatevi abbattere dalla confusione e dagli errori degli infedeli dei decaduti quanti nemici interni ed esterni della mia chiesa sono votati al loro tramonto accorgetevi che io sto afformando ecco qua nel silenzio e nel nascondimento per il futuro e per il tempo vicino con spirito apostolico e sulle orme dei santi nuovi sacerdoti questi entreranno in campo per me entreranno in campo scenderanno in campo diciamo nel linguaggio comune e per l'ordine da me voluto e l'unità dei miei della mia chiesa cattolica e come si riconoscono chi sono questi sacerdoti con santo rispetto e venerazione del mistero e del miracolo dell'eucaristia ricordate sempre questo un sacerdote dice santo maso da quino c'è solo una cosa che spetta al sacerdote sacerdote perché battezzare lo può fare chiunque in caso di necessità spero che lo sappiate ordinare i preti io non posso farlo ok perché non sono vescovo il matrimonio lo c'era buono di sposi la cresima la ministra il vescovo la confessione un prete non può farla se non c'ha l'autorizzazione del vescovo io ho ordinato prete dall'8 maggio 2004 al 28 maggio non ho confessato perché non avevo ancora superato l'esame per avere la facoltà di confessare qual è l'unica cosa che un prete può fare in forza del suo essere stesso prete cioè cosa gli dà l'ordine sacro del sacerdotio il potere sull'eucaristia che non glielo può togliere nessuno anche se un prete non si deve fare però per farvi capire viene scomunicato viene ridotto allo stato laicale si sposa fa tutte le cose più brutte possibile immaginabile se lui va sull'altare celebra la messa la sua messa è valida è illecita fa peccato mortale a farlo ma è valida perché la potestà d'ordine consiste proprio nel potere di consacrare perché il sacerdote è unito all'offerta del sacrificio e per noi il sacrificio è uno solo il sacrificio eucaristico quel potere è irre non te lo tocca nessuno non te lo può togliere nessuno ti possono impedire di esercitarlo legittimamente ma non te lo possono togliere sono stato chiaro? quindi da cosa si riconosce il ministro nuovo il ministro che scende in campo per ricostruire la chiesa cattolica dal rispetto e dalla venerazione del mistero e del miracolo della santa eucaristia guardate come i preti trattano l'eucaristia come celebrano e capirete chi sono questo si può fare questo qui non è giudicare non solo che si può questo si deve fare giudicare proibito da Gesù è il giudizio che riguarda le intenzioni della persona ma io che sono per giudicare quel prete ma tu non devi giudicare il prete però tu puoi verificare se questo è un prete di nuovi sacerdoti che scendono in campo per me e per ricostruire la chiesa cattolica rispetto e venerazione del mistero e del miracolo della santa eucaristia questo è un candidato non è detto che lo sia ma è un candidato miei cari in verità vi dico per la insipienza e per la durezza di cuore di molti miei consacrati che hanno velato la più grande delle realtà viventi se la vedranno col padre eterno tutti la mia presenza nel santissimo sacramento dell'eucaristia il mondo ha percorso già una lunga strada nella vergogna dei più orribili peccati e non si notano scenni di arresto perché se noi non attingiamo forza dall'eucaristia come spiega sant'ommaso latino e per ricevere forza dall'eucaristia tu devi riceverla stando in grazia e se fai peccati di cui non ti penti tu in grazia non stai e l'eucaristia da farmaco si trasforma in veleno e quindi si moltiplicano i peccati ecco perché si dovrà attendere l'opera che nella fede e nella certezza dei miei nuovi chiamati capite che sono questi nuovi chiamati ristabilirà l'ordine assieme a me notate bene nuovi chiamati che già sentono nel cuore l'ardore del mio chiamare a conclusione messaggio di Maria Santissima 1 novembre del 2003 uno degli ultimi sappiamo che io vi sono vicina vi guiderò verso il paradiso questa è una grande consolazione necessita però da parte vostra una assidua opera di conversione coinvolgendo tutta la chiesa in uno straordinario amore a Dio straordinario non si esagera mai nell'amore a Dio non si esagera mai nel culto e nell'amore e nella veriazione dovuta alla Santissima Eucaristia non temete non si esagera è in una carità fraterna purissima che rinnoverà le anime chi sparla chi calumnia chi semina zizzania e robe di questo genere andate a leggere le lettere di San Paolo c'era ieri mattina anzi c'era stamattina la maldicenza sono peccati poche confezioni la lettera di San Giacomo Apostolo sui danni che fa una lingua senza freni o gli aneddoti di San Francesco di Isale no di San Filippo Neri quando andò a confessarsi un maldicente dice come penitenza te lo dico la penitenza che devi fare vai a casa prendi una gallina spennala poi vattene in giro per Roma spargere le piume questo dice che devo fare io vai vai fai questo poi ritorna ritorna dice ho fatto ma non capisco no no adesso la penitenza c'è la seconda parte va in giro per Roma raccoglie tutte quante le piume e li metterglielo addosso come faccio padre ecco ricordati che questo è quello che fai quando sei in veleno e maldicenza denudi le persone le privi dell'onore e una volta che la chiacchiera è partita l'onore non gli restituisce più nessuno perché la carità fraterna non è una cosa di cui ci possiamo sciacquare la bocca così eh capite si do 50 euro al pover carità va bene va bene tutto quello che volete della maggiore vado a lavoro in caritas va bene però c'è anche una cosa molto più terra terra molto più terra terra a cui bisogna fare attenzione i figli di Maria che operano la conversione su se stessi continua vanno nello straordinario sull'amore di Dio e una purissima carità fraterna basterebbe ricordare un monito degli antichi maestri di spirito del prossimo quando puoi parlare bene parla se non puoi parlare bene taci ovviamente quando ci sono delle cose serie si fa la colazione fraterna e si fanno anche tutte quante le cose che si debbano fare mai però la chiacchiera è la maldicenza gratuita bene però ricordiamo bene questa espressione della Madonna che ci porta con lei in paradiso porta in paradiso con lei quelli che le si affidano e che camminano sulle orme del Signore e secondo le sue sante e preziose indicazioni grazie